Io in linea di massima sono contrario ai ricordi personali e non mi piace raccontare i fatti di intimi della mia famiglia. Io sto facendo, condito da 35 anni, fare una battaglia sociale come cittadino che ha diritto di avere la giustizia che gli spetta come parte di una società civile. Nel 1996 sono stato invitato ad un'assemblea dell'Associazione Nazionale Magistrati ai quali mi hanno chiesto di fare un intervento. Ben sono consapevoli di quello che avrei detto probabilmente. Io sono intervenuto spiegando che mi ritenevo semplicemente un controinteressato, cioè un soggetto che eventualmente è coinvolto in un processo, in un giudizio, diciamo che si proporre di confrontazione dello stesso. Siccome partivo dalla considerazione che oggettivamente era incontravertibile, che il mio padre era messo morto a causa e in occasione della sua attività di magistrato, che non era morto per altre ragioni. Siamo nel 97 ed era stato accertato. Quindi chiedevo ai giudici di fare tutto il possibile, tutto l'umano possibile per accertare la verità.